È finita l'ospedale e l'Olimpiade di Nicola Tumolero, il patinatore di Roana Giabronzo nella gara dei 10.000 metri di patinaggio velocità. L'erede di Enrico Fabris è caduto al termine della gara a squadre per un contatto con Riccardo Bugari. Nell'impatto Tumolero ha rimediato un taglio alla gamba destra provocato dalla lama del compagno. Guardando invece la gara Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari, dopo essere stati estromessi per meno di mezzo secondo dalle semifinali, si erano aggiudicati il confronto con il Giappone per la Quinta Piazza con il tempo di 3.41.05 prima di essere però squalificati a causa di un'invasione di Corsia.